Buongiorno a tutti e ben ritrovati con il Nova Notizie, il telegiornale di oggi ospita il consigliere regionale, nonché capogruppo dei riformatori sardi Attilio Dedoni. Buongiorno a Attilio Dedoni, come abbiamo fatto con i suoi colleghi, il consiglio regionale affronteremo diverse tematiche a livello regionale ma sempre riguardanti il territorio oristanese per finire con una battuta anche con lui riguardante la crisi politica che sta attraversando il comune di Oristano e di conseguenza anche in proiezione futura, cioè in vista elezioni comunali. Essendo il giorno dopo il ferragosto, partiamo dai dati che la Regione ha divulgato su questa settimana. Dati positivi. Il trend di luglio, le prenotazioni di agosto e le proiezioni per il proseguo di stagione confermano che l'isola è sempre la meta di vacanza preferita da mercato interno e stranieri. Insomma, fin qui il comunicato della Regione. Poi tra un po' ascolteremo anche quali sono le dichiarazioni dell'assessore Morandi. Ma continuiamo con dare i dati. Porti e aeroporti sono presi d'assalto. I flussi in entrata nei principali scali aerei e marittimi confermano un ferragosto 2016 da tutto esaurito. A trainare un'altra estate da record sono gli arrivi negli scali marittimi. Nei porti di Olbia, Porto Torre e Segolfo Aranci si viaggia in questi giorni ad una media complessiva di oltre 40.000 passeggeri. E la prossima settimana la tendenza, fa sapere l'ufficio stampa della Regione, è al rialzo. Un'estate boom per le navi accompagnata da numeri da record anche per gli aeroporti. A Elmas, nella settimana di ferragosto, circa 138.000 passeggeri rispetto alle 111.000 dello scorso anno. A Olbia, perfino di più, 155.000 passeggeri in transito dal 12 al 19 agosto. Infine, il dato comunicato dalla CNA Balneatori, secondo cui dal 13 al 21 agosto, sotto l'ombrellone nell'isola, si arriverà al 98% di posti prenotati. Insomma, dati decisamente in controtendenza rispetto a quello che fino a ieri ha dichiarato l'opposizione in Consiglio regionale e i riformatori ancora di più, cioè di un'estate fallimentare. Io mi fermerei un attimino a fare due conti. Non esiste assolutamente estate, anche di quelle trascorse in cui il ferragosto non fosse pieno o strapieno. Le navi, comunque sì, hanno sempre viaggiato a pieno, ritmo. Gli aerei viaggiavano anche di più e tra l'altro avevamo anche molte altre tratte con aeromobili che coprivano altre distanze, altre possibilità. Io la invito a fare una riflessione. Con il mar Mediterraneo, con l'Europa centrale, dalla Francia alla Germania, passando per la Svizzera e direi anche per la Spagna sotto certi aspetti, e tutto il Nord Africa, dove erano meta di tanti cittadini della Centra Europa, in guerra, si può dire, Siria, passando per l'Egitto e Siria e così via. Vuole che in una condizione simile noi non avremmo dovuto avere, se ci fossero stati, i trasporti meno cari di quelli che abbiamo sopportato e stiamo sopportando, sia per via aerea che per via marittima. E voi, se ci fosse stato un sistema attrezzato di rapporto con tutto quello che è il sistema turistico, non avremmo avuto un ulteriore pienone. Forse non avremmo potuto ottenere tanta gente perché si sarebbe rovesciata moltissima gente non avendo da offrirgli ospitalità. Questo è un ragionamento. E sono false e tendenziose perché si tendono a dare notizie vere per un aspetto, ma che non tengono conto dell'insieme. E ancora una volta, la Regione Sarda, attraverso il suo rapporto dell'assessorato al turismo, non riesce a capire che va, intanto vista la situazione della Sardegna in termini generali, e va diversificato il periodo delle quattro settimane, quando va bene, di turismo estivo, dando la possibilità di conoscere la Sardegna in lungo e largo e raccordando la costa con l'interno. Credo che sia un'ora veramente buona per fare una riflessione seria. Desta giornalizzazione sulla quale i riformatori puntano, la settimana scorsa avete presentato anche una proposta di legge sul turismo golfistico. Le leggo le dichiarazioni dell'assessore Morandi invece sui dati appena riportati. Dal 2014 a oggi arrivi e presenze in Sardegna sono in forte rialzo. In due anni abbiamo recuperato quasi il 20% dei flussi in entrata, con un aumento costante di viaggiatori stranieri e una ripresa del mercato nazionale. Anche quest'anno stiamo proseguendo sull'identico andamento, dati che testimoniano la strenua volontà degli operatori del settore e di ripartire e crescere e l'efficacia delle politiche turistiche della Giunta, sia dal punto di vista della strategia generale, imperniata sulla qualità della vita in Sardegna, sia sulla scelta dei mercati obiettivo. Così l'assessore del turismo, appunto, Francesco Morandi. Il suo discorso mi sembra chiaro, i dati sono positivi ma potevano essere ancora più positivi e oltretutto si limitano alla settimana di Ferragosta. Esatto, solo la settimana di Ferragosta. Io ho grande stima, perché è un buon uomo, Morandi. Vorrei solo ricordare che era il consulente dell'assessore Crisponi, della vecchia Giunta. Allora, se funzionava bene oggi, doveva funzionare bene anche ieri. Non ha funzionato bene ieri e non funziona bene oggi. Probabilmente è questa la verità. Ancora una volta si riempie la bocca di proclami, di decisioni che non ci sono. Basta vedere le figure magre che la Sardegna fa con il rapporto con i turisti. Io molti danari li avrei utilizzati al meglio, anziché tappezzare, come si è fatto, per esempio, di immagini della Sardegna all'arrivo agli aeroporti e invitare invece all'esterno che venissero in Sardegna. Io avrei fatto, per esempio, degli spot alla RAI o dovunque si voglia fare spot, ma fuori Sardegna per far capire qual è la vera Sardegna e cosa gli aspetta venendo in Sardegna. E dovrebbe anche dire che gli aspetta un sistema turistico alternativo a quello che sino oggi abbiamo visto. è necessità che ci sia un impegno diverso e che il turismo valla visto veramente come traino, come momento di sviluppo che tira con sé agricoltura, quindi agroindustria, che tira con sé l'artigianato, il commercio, che quindi è un volano che può essere di utilità alla Sardegna, ma non in una settimana di ferragosto, ma in tutto l'anno sapendolo distribuire e facendo crescere quella attrazione verso la Sardegna che non si riesce a fare con questo tipo di politica sino allora attuata. Una battuta a secca. Ryanair tornerà ad Alghero, secondo lei? Ho qualche dubbio, anche se sono aperto alla speranza, perché la disgrazia di questa giunta è che non ha voluto curare gli interessi della Sardegna. Io non sono di quelli che facilmente vuole regalare danaro a nessuna compagnia low cost, però c'è la necessità di attrarre turismo fuori dal momento di quello che si chiama oggi ferragosto. Vorrei che ci fosse un turismo tutto l'anno e per avere il turismo tutto l'anno bisogna che ci siano rotte aeree aperte tutto l'anno e tratte, per esempio, delle navi che portino in tutti i periodi e soprattutto non con costi che per una famiglia vanno da 1000 euro in su, solo per il trasporto. Arrivano qui, devono trovarsi alloggio. Si era detto che erano in ribasso i costi delle navi quest'anno. Perché non fate un'analisi, verificate e le trasmettete le date? È un grave fattore quello che la terrenia agisca ancora una volta come la compagnia delle Indie, perché prima aveva la funzione di essere parastatale, oggi è privata ma segue le stesse cose. E lo Stato, peraltro, gli dà direttamente i danari per poter fare la tratta Sardegna-continente e non applica tutte quelle giuste riduzioni che dovrebbero essere date a chi deve viaggiare e a chi, tra l'altro, non ha altre possibilità se non quelle di utilizzare o navi aereo come i cittadini sardi. A proposito di privatizzare, passiamo dal aeroporto di Alghero a quello di casa nostra, Fenoso. Le quote sono state vendute o svendute, secondo lei? Guardi, si può dire che sono state vendute, sarebbero state svendute se si fosse dato quello che era soltanto il punto di riferimento per il bando di gara. Io credo invece che ci possa essere una grande possibilità di sviluppo. Le dico anche che la società che è arrivata un attimino in ritardo, un minuto in ritardo su quell'appalto ha dichiarato di aver fatto un'offerta di 450 mila euro. Ora, vuol significare che ci sono interessi attrattive verso l'aeroporto di Fenoso. È dietro questo che si nascondono altre cose. Cioè che tipo di interessi? Ecco, quando l'assessore ai trasporti Deiana, che era allora consulente del presidente Capellaci, ha fatto sì che chiudesse in qualche modo l'aeroporto di Fenoso, ha consentito che ci fossero dei fattori speculativi. E dirò di più che è una società che appare anche nelle dichiarazioni di altri parlamentari, che è la F2I, cui fanno parte e capo buona parte delle fondazioni e che sta acquistando a manetta delle gestioni aeroportuali, era interessato a Fenoso e all'aeroporto di Alghero allora, cosa che non hanno importo. Oggi invece è interessata a Alghero e a Cagliari, ma prendendole, purtroppo, come stava capitando, e in parte è capitata ad Oristano, con, come dire, a stracu barattu, come diremmo noi nella nostra lingua. Quindi è ora di finirla. Dicevamo del futuro però di Fenoso. Scalo commerciale. Fenoso ha diverse possibilità. Certamente di scalo commerciale. È al centro della Sardegna. È vicino alla 131, quindi al gommatto. C'è l'intermodalità che dovrebbe essere in costruzione, salvo che questa giunta non faccia altre scempiaggini, questa giunta comunale intendo dire, perché avrebbe dovuto appoltarlo da modo. C'è il raccordo ferroviario. C'è il porto. Io non vedo occasione migliore di regolamentare un interporto, come può essere Bologna, come possono essere altre città importanti nei raccordi dei commerci, che non possa svolgere per la Sardegna e dare veramente una fonte di sviluppo per il nostro territorio, ma aiutare tutta l'isola nell'avere i rapporti commerciali. Ma non trascurerei neanche quello che può avvenire, se mi consente, due secondi, quello che può avvenire sia da questi rapporti, ma anche dal fatto che ci possono essere delle aziende interessate, come il distretto aerospaziale Sardo, che potrebbe aprire un ragionamento a tutto tondo su quello che è il nuovo modo di concepire l'aviazione, quello dei droni, che non sono giochetti, ma sono aerei veri e proprio, e che quindi hanno la necessità di allungare la pista, e che quindi abbiano dei raccordi, hanno dei raccordi certamente con questa possibilità in espansione, e che potrebbero venire a vedere, e anche quindi l'opportunità di tenere in piedi anche un rapporto con il transito passeggerico. Perfetto, siamo di frettissimi e dobbiamo ancora affrontare diversi argomenti. Partiamo dal patto per la Sardegna, siglato dal Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, con il Presidente della Regione, Francesco Pigliaru. Non stiamo a parlare delle polemiche dei giorni scorsi, ne abbiamo parlato con i suoi colleghi, da una parte Mario Tendas ha detto sono di più dei 15 milioni di cui si è parlato, Scarchetti ha detto sono solo 15 milioni, l'Oristane si è stato ancora una volta dimenticando. dimenticato, ma a parte questo, la Giunta ha detto di voler puntare fortemente sul GNL, sul metano, sul metano d'otto, insomma, che attraverserà la Sardegna. A questo proposito, nei giorni scorsi è stato approvato il bilancio di previsione del Consorzio Industriale dell'Oristanese e vado a leggere il comunicato stampa del Consorzio diramato appunto in queste ore. L'Assemblea, nel corso dell'ultima riunione, ha approvato il bilancio al 31-12-2015 che chiude con un utile di esercizio di 167 mila euro. Dal punto di vista delle prospettive di sviluppo dell'area industriale, il 2015 ha fatto registrare significativi passi avanti per la localizzazione nell'area industriale di depositi costieri di gas naturale liquefato, il cosiddetto appunto GNL, per la distribuzione di gas metano che hanno consentito nel mese di aprile del 2016 la favorevole conclusione delle procedure per il rilascio del NOF regionale avviate da Edison S.P.A. e i gas S.R.L., nonché l'avvio della procedura di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Analogo a iniziative, un programma anche da porte dalla società Ivi Petrolifera, storica insediata dell'agglomerato industriale, alla quale il consorzio ha riservato un'area di oltre 5 ettari nel corpo centrale. Il consorzio, si legge nella nota, sostiene con forza queste iniziative che porterebbero per la prima volta Oristano all'avanguardia rispetto alle altre aree industriali della Sardegna. Io non sono contrario, anzi, voglio dire soltanto che non è una cosa di oggi, c'era già l'ipotesi dieci anni fa quasi. Il problema è che si è ritardato perché c'era quella benedetta dorsale che doveva portare il gas algerino verso il nord Italia e attraversare verso la Toscana, insomma. C'era il gas d'oto che è andato in frantumi e che non si è realizzato. Quindi non c'è altra via per poter avere la metanizzazione della Sardegna e quindi parificare un po' i costi, quindi i prezzi che portano questi costi ad essere elevati se non facendo dei punti dove poter contenere questo che viene trasportato con le metanifere che portano queste navi. Quindi in zone portuali dovrebbero essere tre una al meridione, l'altra al centro e l'altra a nord Sardegna. È una cosa vecchia quindi fa piacere che per quello che poteva sbrigare il consorzio l'abbia fatto ma non c'è nessuna novità. Io mi auguro invece che si vada avanti in attesa di poter trovare altre soluzioni più attinenti a quello che è la salvaguardia ecoambientale della nostra isola e trovando fonti energetiche alternative che siano seriamente poste davanti all'opinione pubblica e comunque sia portate a compimento di modo che si abbia anche la possibilità di poter operare al meglio e in competizione con le altre regioni. Certo è curioso che nel comunicato stampa divulgato dal Consorzio Industriale si parla di successi oltremisura raggiunti nel corso del 2015 però alcuni mesi fa il presidente Claudio Azzori è stato di fatto defenestrato per far posto ad un'altra persona Massimiliano Daga che ovviamente nulla ha a che fare con quello che è successo però sono gli scherzi, chiamiamoli così, della politica chi fa bene viene mandato a casa. Purtroppo, ma le devo dire una cosa io ho grande stima dell'operatività in cui ha manifestato la sua capacità di imprenditore il vecchio presidente ritengo che sia un'ottima persona e quindi abbia anche capacità l'attuale presidente non faccio la schiera di queste posizioni io credo invece che ci sia da fare sempre un raccordo serio tra quello che c'era come progettualità prima si porti a compimento senza guardare né colori né partiti ma si guardi l'interesse della gente e soprattutto in questo caso dell'oristanese cosa che da molto tempo a questa parte non sta avvenendo Perfetto a proposito di colori di partiti non li state guardando voi della commissione di inchiesta sulla sanità lei lo ha ribadito più volte insomma la sanità non ha colori politici e quindi state cercando di fare un'indagine seria sui conti delle ASL isolane stiamo anche qui in casa nostra ASL di Oristano noi alcuni mesi fa abbiamo dato notizia di una richiesta di accesso agli atti di uno dei componenti della commissione il sardista Angelo Carta nella richiesta di accesso agli atti che è pubblica noi l'abbiamo fatto vedere c'era insomma tutta una richiesta di chiarimenti riguardo le assunzioni avvenute negli ultimi 4 anni quasi tutte attraverso agenzie interinali voi chiedevate anche insomma che l'attuale commissario che tra l'altro incarica e lo ribadiamo da poco quindi le assunzioni riguardano anche il periodo precedente alla sua gestione insomma l'attuale commissario dovrà tornare in commissione per rendere conto di queste assunzioni innanzitutto le chiedo partendo dall'attualità se vi ha fatto già sapere quando tornerà a divulgare questi dati no, non ci ha fatto sapere niente io credo che il consigliere Carta procederà a Onca autonomamente perché non era una decisione della commissione speciale d'inchiesta lo ha portato a conoscenza della stessa commissione abbiamo preso atto della sua iniziativa noi piuttosto ci siamo ramaricati al di là dei colori dei partiti del fatto che tutti i commissari hanno debordato dalle loro responsabilità effettive che era quella di un commissario lei me lo insegna deve fare l'ordinaria amministrazione non la straordinaria e qui siamo arrivati a fare più che la straordinaria mi lamento nel senso che capisco che c'è gente che vuole lavorare e si può lavorare in tutti i modi ma fare anche una gara adesso per avere due giardinieri mi sembra ridicolo quello che è ancora più grave credo che se ne occuperà non solo la commissione ma anche la corte dei conti quando si danno come si stanno dando degli incarichi per poter alleggerire le fatiche di qualcuno ora sono cartine tornasole di clientela chiunque le faccia che sia di destra o di sinistra siccome non riguarda una sola asla ma riguarda tutte le asla credo che gli organi prepusti giurisdizionali avranno di che lavorare perché ci sono veramente delle situazioni che non sono le migliori e ultimo se vuole parlare di Oristano mi risulta che anche ad Oristano anziché seguire una gradatoria si stia portando a compimento un nuovo bando per OS tutto va bene io sono perché ci sia maggiore occupazione possibile ma bisogna anche stare attenti a quello che si dichiara da un'altra parte cioè che non ci possono essere spendite a vanvera ma devono essere funzionali a quelle che sono le necessità e le esigenze per dare un servizio fruibile ed adeguato comunque ci sarà questa audizione in commissione d'inchiesta? non vi è dubbio a settembre? se ci sono impedimenti credo che andremo a raccontare cose ancora più pesanti perfetto chiudiamo il capitolo ASL e chiudiamo con la situazione politica del comune di Oristano una situazione di crisi lo dicono i fatti perché non è stato approvato il riequilibrio di bilancio a fine luglio a fine mese si andrà a discutere nuovamente i riequilibri anche qui ci sono state diverse polemiche sul fatto della proroga concessa dalla regione anche dinanzi ad una bocciatura del rendiconto lei come vede innanzitutto questa situazione di crisi politica? guardi le devo dire una cosa molto seriamente io non sono abituato a ridere e a farmi beffe dei guai degli altri io credo che ci siano situazioni oramai che sono state toccate con mano e che hanno offeso la cittadina di Oristano fosse di destra o fosse di sinistra ci sono state ormai oltre 20 anni di crisi o vere o latenti con passaggi dei commissari che hanno fatto i propri interessi o di parti di partito ma non certamente quello dei cittadini di Oristano Città Oristano Città che dovrebbe essere il traino per tutto il territorio che non è stato che purtroppo ancora una volta manifesta queste debolezze non voglio ripeto andare adesso a fare delle critiche troppo facili io credo che ci sia da fare una riflessione invece piuttosto seria ponderata con coscienza da parte di tutte le forze politiche Oristano ha necessità di essere difesa da un attacco concentrico che viene da tutte le parti prima parlavamo delle asle io vorrei capire quanti dell'oristanese hanno trovato lavoro lì dentro o se non sono invece delle zone limitrefe del Nurese non gli ho chiesto nulla della aslunica la sede ecco ma per dire ora la sede della aslunica io ero uno di quelli promotori perché restasse qui e l'hanno portata dove io ho abbandonato l'aula perché non ho voluto più partecipare a discussioni perché era una vergogna non era quella aslunica che abbiamo desiderato però torniamo al comune di Oristano mi sembra di capire che lei preferirebbe che la crisi venisse risolta che non si arrivasse io preferirei che ci fosse questo esame di coscienza da parte di tutte le forze politiche e che si trovasse la forza civica innanzitutto di mettere insieme quelle che sono le energie migliori per rimettere Oristano al centro dell'attenzione questo per il futuro ma non vedo altro ormai che ci sia la crisi tra due mesi e quindi con un commissario o che si vada a elezione tra nove mesi non cambia niente cioè il passaggio è solo tra una continua attività in consiglio e giunta e il commissario che può decidere come vuole ma certamente non è una cosa legata agli interessi di Oristano voi peraltro non siete neanche rappresentati in consiglio ma non mi interessa guardi la rappresentanza in consiglio è una cosa importante se la si fa seriamente degnamente e sapendo perché ci sia arrivati se qualunque sia la persona ritiene invece di non essere più rappresentante di chi l'ha letti vuol dire che si è tagliata fuori da un rapporto come dire con la cittadinanza perché non non ha più rispettato quel mandato che gli era stato dato ma questo mi faccia spiegare perché non ho ripeto questo non mi interessa non mi interessa era solo cronaca nel senso che Daniela Annura ha letta nelle liste dei riformatori so che con idea rinnovabili che era il candidato sindaco di una coalizione su cui c'erano anche i riformatori che è andata a perdere nei peggiori dei modi quindi io lo ricordo quando uno perde deve essere onesto con se stesso verso gli altri e dire che perde allora ha perso quella coalizione quindi va detto che va ricostruito qualcosa di nuovo nell'interesse di un risale che è tradotto in soldoni che cosa significa abbiamo avuto ospite Oscar Kirch nei giorni scorsi ci ha detto che avete già siglato un patto riformatori Forza Italia e Udc anche se insomma nei prossimi giorni avremo ospite il segretario provinciale dell'Udc Giuliano Uras che questo patto non lo vede almeno mi è perso di capire di buon ultimo voglio dire a me non interessa quello che pensa Giuliano Uras a me interessa quello che pensa la gente io credo che la gente di Oristano voglia una amministrazione ferma decisa coerente che possa portare a compimento finalmente le incompiute di Oristano e che realizzi una prospettiva per il futuro per questo dobbiamo costruire un'alleanza larga e va bene che ci siano i rapporti che si sono iniziati a discutere tra quelle forze che lei ha citato io ritengo tra l'altro che ciascuno di noi dovrebbe spogliarsi di una veste di partito e scegliere la lista civica per dire che vogliamo Oristano al centro di tutto non gli interessi di un partito quindi voi non uscirete col simbolo del riformatore io personalmente sono per un simbolo che sia la città di Oristano al centro dell'attenzione di chi si candida con noi io sono per una lista civica in queste condizioni perché non credo che l'interesse partitico oggi possa rappresentare un interesse per il futuro per i cittadini non so di qualunque parte essa sia ecco perché auspico che ci sia un'apertura che dia possibilità di trovare a delle forze convergenti su un programma che trovino un sindaco attento disponibile capace non certamente molto anziano non certamente di vita politica vissuta o stravissuta o comunque non deve essere uno che è stato mai candidato sindaco ma dare l'opportunità che ci sia chi conosce anche la macchina dell'amministrazione possa dare un aiuto a questa città che oggi ha più bisogno che mai perché ripeto Oristano e l'oristanese è sotto il tiro di tutti gli interessi cagliaritani sassaresi e perché no anche nuoresi allora Oristano svegliati credo che sia importante quindi non deve essere anziano non deve aver fatto già il candidato sindaco però deve avere un minimo di capacità amministrativa certamente conoscenza dello strumento che è amministrativo degli enti locali io credo che ci siano persone capaci degne che possano essere presentate all'opinione pubblica per dar sì che domani Oristano sia nuovamente al centro della Sardegna con tutta la sua potenzialità perfetto siamo a metà consigliatura in regione è previsto un avvicendamento nel ruolo di capogruppo del suo partito l'ho chiesto io stesso quindi non ho difficoltà molti non lo sanno essere capogruppo significano mille incombenze mille incombenze in più non c'è retribuzione anzi ce ne metti di più se è per quello ma questo poco importa ci sono ripeto anche onori per carità però se qualcuno dei miei colleghi vorrà farlo io ho messo già a disposizione la carica perché l'ho già fatta nella scorsa legislatura per un pezzo l'ho proseguita in questo quindi non ho difficoltà né vivo perché abbia una poltrona o l'altra io voglio fare il consigliere regionale libero se è possibile ma libero anche di tanti fardelli che ci si porta dietro sia come partiti sia come interessi sia come qualcuno che nasconde interessi anche poco onesti e ripeto l'onestà è una cosa pre-politica e su questo molti dovrebbero farci veramente una verifica sana perché il domani ha necessità di essere pulito lindo e bravi nell'amministrare con lei non riesco mai a rimanere insomma nel dono della sintesi che dovrebbe essere proprio di noi giornalisti però la ringraziamo perché attendo a dire tutto quello che sento non la metà la ringraziamo comunque per averci fatto accompagnare grazie a voi molto gentili si chiude qui anche questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito arrivederci a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.